La carta protagonista ha due funzioni, determinare il colore del protagonista che i due giocatori interpretano, giallo o rosso, e il carattere della composizione. Può essere una composizione di modo minore in tempo ternario, oppure minore in tempo binario, rivoltando la carta ancora si può vedere maggiore di tempo binario e rivoltandola ancora maggiore in tempo ternario. All'inizio della partita basta scegliere o sorteggiare quale protagonista interpretare, o rosso o giallo, e soprattutto ruotandola, determinare a caso se la vostra composizione sarà di modo minore, di modo maggiore, in tempo binario o in tempo ternario.